Liedi è una buonissima squadra, ci ha messo in grande difficoltà, siamo stati attenti a riempire l'aria, meno attenti soprattutto nel perimetro dove loro hanno dei giocatori che hanno preso fin dall'inizio fiducia. Mi riferisco soprattutto a Casini che ci ha messo immediatamente in difficoltà e quando dai la possibilità a una squadra di prendere subito fiducia e mi riferisco soprattutto ai tiratori di striscia è chiaro che dopo diventa molto più difficile. Noi siamo stati troppo elementari dal punto di vista offensivo concedendo a loro la possibilità di correre in contropiede e di dare anche tiri troppo aperti dove nella nostra transitione difensiva non avevamo la possibilità di accoppiamento. Ringrazio la squadra perché questa è la vittoria della squadra e lo sottolineo perché non ha mai alzato bandiera bianca, ci ha sempre provato, ha sempre lottato. È giusto sottolineare che abbiamo avuto grande fortuna perché Rieti è un'eccellente squadra e Rieti metterà in grande difficoltà tutte le altre squadre.